È stato aperto il cantiere. Sono iniziati i lavori di riqualificazione per l'area del Lido a Latina con la realizzazione della cosiddetta passeggiata portoghesi. Sul tratto compreso tra la via Casilina e Fuoceverde sarà istituito il senso unico. I lavori andranno avanti per blocchi di 400 metri circa alla volta. Il lungomare sarà percorribile per chi proviene da Fuoceverde verso capoportiere mentre chi arriva dalla direzione opposta all'altezza della Casilina dovrà svoltare. Un lavoro atteso da anni nel capoluogo pontino. Significa riguardare tutta quanta la imposizione del culturale della Marina. Significa raddoppiare la passeggiata, significa mettere la pista ciclabile, mettere il senso unico. Quindi rendere vivibile finalmente la Marina di Latina. Quindi sia per quanto riguarda i pedoni, sia per quanto riguarda i ciclisti, sia per quanto riguarda gli omobilisti. Nelle ultime ore c'è stata l'apertura ufficiale del cantiere, con il primo cittadino del capoluogo che invita ad avere pazienza in vista del periodo di lavori. Chiedo a tutti quanti i nostri operatori della Marina di essere vicini a questa grande opera perché per loro sarà un grandissimo vantaggio perché finalmente, dopo tanti anni che si è sempre parlato di fare le opere al mare, finalmente si stanno facendo. I lavori di riqualificazione dureranno oltre un anno. La tempistica è molto chiara, ce lo dice il finanziamento europeo. Noi entro la fine del 2015 dobbiamo aver terminato i lavori.